Ti capita spesso di essere triste? Prova ad immaginare un hamburger di alta qualità con ingredienti selezionati. La tua birra preferita è una buona dose di musica dal vivo. Un sogno? No! A Torricella Verzate tutto questo è realtà. Vivi l'esperienza. Il nuovo Beer Pub aspetta te e i tuoi amici in Via Emilia 2. Successo senza precedenti per Checco Zalone. Su ultimo film, Quo Vado, uscito nelle sale il primo gennaio 2016, ha battuto tutti i record incassando più di 22 milioni di euro nei primi tre giorni. Lei ha visto il film? No. Cosa ne pensa di Checco Zalone? Checco Zalone non mi dispiace, è una comicità nuova. Prende in giro l'Italia e gli italiani e quindi probabilmente è per questo che è successo. Infatti addirittura ha superato negli incassi Star Wars. Sì, infatti. Qualcuno dice che la gente non ha più voglia di violenza ma ha voglia di ridere. Beh, questo secondo me sì. Ultimamente ho visto che stanno uscendo tutti i film un po' violenti, compagnia bella. Di violenza mi sembra che ne abbiamo già abbastanza di quella che si sente e si legge sui giornali. Quindi secondo me ci sta. Porterebbe un bambino a vedere un film di Checco Zalone oppure trova che sia troppo volgare? Beh, oggi come oggi ci sta... è il linguaggio che c'è normale nella vita di tutti i giorni, quindi... Quindi non è diseducativo come dice qualcuno? Secondo me no, o comunque non più di tanto. Andrà a vedere il film? Spero di sì. Appena finiscono un po' le file... Esatto, sì, perché adesso... Ultimamente c'è un ballato di gente, ma non solo qua, eh. Ma no, in tutta Italia. Sì, sì, sì. Non ancora, diciamo che il cinema di Checco Zalone è sicuramente accattivante come comicità, nel senso che lui è uno dei tanti ex correnti comici di Zeli che ha saputo cavalcare la cresta dell'onda. Mi dispiace un po' che ogni volta che si parla di cinema italiano effettivamente il clamore maggiore è scatenato da lui, nel senso che se lo merita per appunto gli incassi che mi ricordano un po' i primi film di Leonardo Pieraccioni e che aveva un altro tipo di comicità. Certo... Migliore o peggiore? Non lo so, forse migliore ma era proprio un altro tempo probabilmente, anche perché anche lui si è riciclato talmente tanto, Pieraccioni che adesso diventa un po' stucchevole. Ma per esempio qualche mese fa è uscito l'ultimo di Caligari su una storia incredibile, proprio quella sul regista, che sarebbe altrettanto bello mettere un po' più in prima pagina, però nel senso il cinema di Checco Zalone non mi dispiace. Addirittura ha superato Star Wars, secondo te è giusto quello che molti ci leggono, cioè che la gente abbia voglia di risate e non di violenza, o esagerato? No, che la gente abbia voglia di risate e non di violenza sicuramente, cioè ben venga questo trend diciamo. Sul fatto che abbia superato Star Wars, Star Wars non ha nulla da temere, tuttavia può essere letta anche come eventuale critica anche in seguito alle ultime dichiarazioni di George Lucas. Io purtroppo in materia di Star Wars sono molto impreparato, però mi è sembrato di aver capito che l'ultimo sia stato piuttosto snaturato, diciamo, del suo contesto iniziale, cioè di quello che era la base di Star Wars. No, non l'ho visto. Come mai? È perché ho visto prima Star Wars e adesso andrò a vedere anche qua vado di Checco. Quindi comunque andrei a vederlo. Sì, sì, cioè era nei miei programmi. Tu pensa che il film di Zalone ha battuto addirittura il tanto atteso nuovo capitolo di Star Wars che tu hai visto? Qualcuno ci legge la necessità degli italiani di dimenticare la violenza, preferendole invece qualche bella risata. Pensi che sia così? No, sì, è giusto. Però tu hai scelto la violenza? No, io scelto, vabbè ragazzi, è Star Wars. Adesso Checco è un grande, mi fa ridere, è uno dei comici più bravi d'Italia, però Star Wars è una leggenda, c'è nel senso. Era giusto andarlo a vedere? Era giusto andarlo a vedere, ma com'è giusto andare a vedere adesso, farsi una risata con Checco. Qualcuno dice che i film di Zalone sono trash, spazzatura, per qualcun'altro invece sono come una medicina. Tu da che parte stai? Ma no, io in mezzo, nel senso, è sicuramente un, non è un film serio, Checco è un comico, quindi fa film divertenti, prendendo temi, tematiche sicuramente quotidiane, mettendoci su una risata, ma non tralasciando l'importanza del significato di fondo che in tutti i film di Zalone c'è sempre. E' la cosa più importante. La cosa più importante, certo.